Volevo dire che siete stati straordinari, che siete esattamente l'Italia che si vuole vedere, tenace, che non molla di un centimetro, che sa che si deve guadagnare tutto, mi avete dato una grande soddisfazione, sono fiera di voi, grazie, 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 perché poi tanta parte di quello che succede in Italia dipende anche dall'entusiasmo che persone come voi riescono a trasferire a tutti gli altri, quindi aiutate anche il lavoro mio. Grandissimi siete stati! Grazie, capitano, prefi, davvero. Grazie.